La ricetta di oggi è paccheri con melanzane e pecorino e gamberoni imperiali. Aspetta, ripetiamo, non va bene. La ricetta di oggi è paccheri con gamberoni imperiali, melanzane e pecorino. Ingredienti per 4 persone. 400 grammi di paccheri, 300 grammi di melanzane, 400 grammi di gamberoni, 50 grammi di pecorino, uno spicchio taglio e 20 grammi di scalogno, olio extravergine d'oliva, sale quanto basta e vino bianco mezzo bicchiere. Abbiamo tagliato le melanzane a cubetti, abbiamo sgusciato i gamberoni imperiali, adesso passiamo alla preparazione. Mettiamo a cuocere i paccheri, si fanno cuocere per circa 11 minuti, nel frattempo che cuociono i paccheri prepariamo le salse. Olio extravergine d'oliva, uno spicchio taglio, si fa imbiondere, dopo di che si persono i camperoni, si fanno cuocere per circa 2 minuti. Sono passati 2 minuti, bagniamo con il vino bianco, lasciamo evaporare. Uniamo il pomodoro fresco e lasciamo cuocere per circa 4 minuti. Adesso questo si boggia qui, nel frattempo finisce da cuoce, andiamo a cuocere le melanzane, olio extravergine d'oliva, mettiamo lo scalogno, facciamo un pochino rosolare, uniamo le melanzane, saliamo. Le facciamo cuocere per circa 7-8 minuti. Allora, sono passati i 7 minuti, le melanzane sono cotte, uniamo i gamberoni con il pomodoro, amalgamiamo il tutto. La pasta è cotta, andiamo a scolare. Lasciamo amalgamare bene. Togliamo dal fuoco, uniamo il pecorino. Adesso ho un pochino di pecorino. Par sintetico.